Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video velocissimo, giusto per annunciarvi che sarò a Lucca Comics, infatti sono stato diciamo molto in forze, però adesso, anche perché mancano un paio di giorni all'inizio della fiera, adesso che sto registrando questo video posso dirvi con certezza quando sarò a Lucca. Sarò a Lucca i giorni di sabato e domenica che sono rispettivamente il 29 e il 30 e molto probabilmente anche il 31 sarò là da quelle parti prima di ripartire senza biglietto, magari starò in giro per la fiera, non ne ho idea. E quindi volevo dirvi che se in quei giorni incontrate una persona in giro per Lucca che assomiglia a me, probabilmente potrei essere io e non farò nessun raduno né niente, anche perché secondo me non ha alcun senso, però comunque sia molto probabilmente andrò a quello di Anime Mangaita che si tiene in piazza Napoleone il giorno 29 che sarebbe sabato alle 4 del pomeriggio al lato dell'hotel in piazza Napoleone. Quindi molto probabilmente sarò là, ci saranno anche altri youtuber, passiamola e stiamo insieme, si parla di fumetti, ci si saluta e bla bla bla. Poi nei giorni di Lucca molto probabilmente nonostante internet sarà inutilizzabile, io non so, proverò a far sapere la mia posizione, se sto facendo qualcosa o comunque quando torno a casa magari condivido una qualche foto, un qualcosa. Quindi seguitemi su Facebook per vedere questa roba, comunque sia usciranno le foto, usciranno i video, spero di farli e che siano decenti, li vedrete nei giorni successivi. E comunque sia seguitemi anche su altri social un po' più easy, un po' più veloci come ad esempio Twitter, trovate tutti quanti i link in descrizione insomma. E per chi ci sarà ci vediamo in Lucca Comics, con tutti gli altri ci vediamo sul canale prossimamente, presto spero. Questa settimana sono stato incasinatissimo con Lucca e tutto, quindi a parte questo video che molto probabilmente si autodistruggerà dopo la fine del Lucca Comics, insomma mi scuso perché non ce l'ho fatta a far uscire niente, ma capitemi, sono state un paio di settimane distruttive e non è ancora finita. Comunque, ciao ragazzi, ci vediamo. Ciao.